Vai, attenzione eh, vai, ora ti liberiamo il viso eh? Enzo, ci piazzi la luce? Ecco la testolina di? Ah no, il nome dobbiamo stabilirlo, spingi, il nome dobbiamo ancora un po' stabilire, vabbè, dopo vediamo. Ecco Greta, va. 14,48. Eh? Dammi la valga un po'. Dammi la Kelly. Controlliamo anche il peso, la circonferenza e la lunghezza della prima. Siamo? No, 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 no. 1,0... Guarda un po' chi si corta. Eeeh! 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 Grazie a tutti